Ciao Ale, oggi parliamo di una questione che ci sta abbastanza a cuore, che è legata all'alimentazione, ovvero questa idea che abbiamo magari un po' estrema, che finiremo per essere obbligati a diventare un po' tutti vegani, o meglio, possiamo decidere di iniziare un certo percorso o finiremo a un punto in cui non ci sarà più scelta. Ci dividiamo un po' le parti, io mi occuperò della parte un po' più pratica e tu quella etica, ok? Ok. Prima di cominciare chiedo un favore a chi ci ascolta, sia via podcast sia su YouTube, se può mettere un mi piace alla pagina per aiutarci a essere un po' meno schiavi degli algoritmi di YouTube. Vi ringrazio. Allora... Io mi associo ovviamente a questa richiesta. No, perché sennò siamo veramente schiavi dell'algoritmo di YouTube, obbligati a mettere dei titoli un po' a chiappa clic, ogni tanto ci sta, ma ci piacerebbe parlare di cose un po' più importanti e non per forza legate alle notizie del giorno. Allora, spiego questa nostra idea. A me sembra qualcosa di abbastanza inevitabile. Consumiamo una quantità di risorse infinite per produrre carne. Tra l'altro carne è spesso di bassa qualità e ne usiamo specialmente qui in Italia, in Europa, in Occidente, solamente una piccola parte di questa carne in un modo corretto, perché vanno molto le fettine, il pettino di pollo, no? Mentre dagli un po' più complicati che richiedono lavoro vengono destinati ad altri utilizzi meno nobili, diciamo. E quindi stiamo parlando di investire molte risorse per poco. E quali sono i problemi legati a questo atteggiamento? Intanto che col cambiamento del clima rischiamo anche di avere dei problemi proprio del produrre sufficiente carne per mantenere questa richiesta, perché serve tantissima acqua, specialmente per il manzo. Ci sono tanti altri problemi poi. La mia opinione è molto semplice. Credo che possiamo decidere in questo momento di dire iniziamo a mangiare. Faccio un esempio settimanale per essere semplici. Due giorni la settimana vegano, tre giorni vegetariano e gli altri due onnivoro. Ma vuol dire che nei due giorni onnivoro nonché uno si mangia 30 kg di carne per recuperare, mangia la porzione di carne che è raccomandata, che è consigliata. Qui stiamo consumando tantissime risorse per produrre del cibo di qualità veramente bassa. Specialmente, faccio l'esempio degli Stati Uniti, ci sono gli hamburger, il pollo fritto, che è tutto cibo, ha poco i soldi, che viene venduto quindi ai poveri. Sono praticamente trigliceridi che camminano, grassi insaturi, a manetta. Quindi vuol dire anche che è un tipo di alimentazione che sta rovinando la salute delle persone. Qua in Italia siamo fortunati perché abbiamo la dieta mediterranea e anche chi ha meno può permettersi di mangiare meglio. Però sappiamo, no, Ale, che i modelli americani arrivano. C'è un problema sanitario che spesso viene dimenticato, che è quello legato alla resistenza degli antibiotici. C'è qualche persona che si è fatta una settimana o due settimane in ospedale e è tornata a casa con qualche problema legato a questo e sa che non è così facile poi cavarsela perché ci sono pochi prodotti mirati o non ce ne sono quasi. E noi stiamo dando tantissimi antibiotici agli animali. Tant'è che si trovano anche nelle carni. Poi adesso ci sono delle regole per cui nell'ultimo periodo, prima di venire macellati, gli animali non vengono più trattati. Però vengono trattati molto perché questi animali sono rinchiusi in spazi stretti, non vivono una vita sana, si ammalano e quindi vengono curati in maniera massiva. Ma non solo, specialmente nei manzi, gli antibiotici fanno aumentare la crescita dell'animale, accelerano la crescita dell'animale. E quindi naturalmente cosa succede? Che vengono dati a quello scopo. Tutto ciò si ribalta sulla nostra salute direttamente perché poi i batteri diventano più resistenti agli antibiotici e la volta che ti prendi un'infezione, se ti prendi un'infezione di quelle giuste, fai fatica a curarti. E qui tra l'altro si aprirebbe un tema molto interessante del fatto che i governi dovrebbero iniziare a investire molto fortemente per la produzione di questi nuovi farmaci. Perché serviranno, non è che è se, è un quando. E non solo, l'abbiamo visto tutti col Covid che è arrivato dagli animali, ormai sappiamo quasi tutti cos'è una zona oggi. Il rischio di avere questi animali a estremo contatto con l'uomo, ammassati tra di loro, un domani tu passi il Covid al maiale, fa il giro del maiale, ti ritorna modificato, non è bello. Quindi bisogna assolutamente rivedere proprio per questioni sanitarie la produzione di questo tipo. Ora qui so che qualcuno potrebbe dirmi, eh ma tutti gli allevatori e i produttori. Quindi mi permetto di fare due annotazioni. Intanto molta di questa carne viene prodotta utilizzando dei fondi europei o nazionali, che vanno benissimo perché l'agricoltura e l'allevamento in Europa va sovvenzionato, perché altrimenti, lo sappiamo, non come va con i mercati liberisti, siccome in Marocco costa di meno, qui non si produce più niente e si prende tutta la roba dal Marocco. Poi una mattina il Marocco decide che venderlo ai cinesi è più conveniente e noi moriamo di fame. Però questi fondi si possono spostare e utilizzare anche in un altro modo, anche perché spesso vengono usati in una maniera molto discutibile. Qui dove viviamo noi, in Trentino, c'è stato due anni fa uno scandalo, almeno io lo considero uno scandalo, sono morte tantissime pecore, 45 da una parte, più di 100 da un'altra, tutto in giro di brevissimo tempo. La ragione per cui sono morte è semplicemente perché ci sono dei fondi europei che favoriscono le zone rurali e l'allevamento di questi animali e chi vuole ottenere questi fondi va, si affitta agli animali, in questo caso le pecore, da un altro allevatore, queste venivano dall'Emilia Romagna, le hanno caricate in estate su dei camion a luglio, due anni fa era stata un'estate anche molto calda, si sono fatte tutta la strada al caldo torrido, sono arrivati dopo qualche giorno e sono morte. La parte etica magari poi la toccherai di più tu, però insomma di cosa stiamo parlando. Quindi vale la pena, secondo me, iniziare a riflettere su questo tema e non fare i giochini come fanno molti, le battute contro i vegani eccetera, no? Bisogna un attimo aprirsi a un'idea molto semplice. Stiamo vivendo uno stile di vita che non ci possiamo permettere, ma nessuno. Il rischio è che tra dieci anni i primi a pagarlo fortemente saranno i poveri, perché i ricchi comunque avranno sempre i mezzi per mantenere il loro status, ma poi il prezzo lo pagheranno tutti, perché le risorse sono quelle che sono. Arriverà un giorno in cui dovrai decidere se dare l'acqua per allevare le mucche o per farla bere alle persone. E quel giorno cosa succede? Decidiamo di allevare le mucche per i ricchi o diamo l'acqua anche ai poveri? Questa è la mia domanda. che è filosofica e quindi ti passa anche la palla. Beh, innanzitutto quello che tu hai detto mi ha fatto venire in mente tutta una serie di domande. Innanzitutto dobbiamo chiederci ma la Terra può sostenere quanti esseri umani? perché si sta diffondendo l'idea che in realtà il fatto che ci siano delle disparità di accesso alle risorse, che può essere l'acqua, che possono essere la possibilità appunto di alimentarsi in una maniera corretta, in realtà queste disparità sono dovute a questioni di tipo politico e che quindi se noi entrassimo in una situazione dove la politica favorisca invece la redistribuzione di queste risorse, in realtà la Terra potrebbe sostenere 10, 20, 30 miliardi di esseri umani. Questo però, secondo me, è un po' un wishful thinking, no? Nel senso che anche fosse, anche fosse, però ha senso, anche perché a un certo punto è chiaro che ci sarà un limite, no? Guarda, mi permetti una cosa che poi ti lascio andare. Il fatto è che molti che sostengono l'idea che potremmo essere 20 miliardi con la giusta distribuzione non tengono conto del fatto che dovrebbero rinunciare anche loro a qualcosa. Chiusa la parentesi. No, no, ma certo, però il problema comunque, perché anche se questi fossero disposti a fare una vita ascetica, no? Per sostenere 30 miliardi, 20 miliardi di esseri umani, però il problema rimane sempre, no? Ma comunque, cioè, a un certo punto la Terra ci imporrà un limite strutturale. Allora bisogna chiedersi, ma quanti esseri umani, non la Terra può sostenere anche le distribuendo in maniera corretta le risorse, ma quanti esseri umani la Terra può razionalmente sostenere? E qui, sì, cosa voglio dire? Che qui entriamo brutalmente nel problema di che cos'è un essere umano. No. Perché se un essere umano è anche un qualcuno che si occupa di lavori, diciamo, di basso livello tutta la vita per un minimo di cibo e un sorso d'acqua, allora, ok, la Terra può anche sostenerne molti più. Però se per costruire un essere umano ci vogliono determinate risorse, per farlo, diciamo, arrivare al giusto sviluppo di quello che è la natura umana, allora improvvisamente cominciamo a pensare che forse bisogna abbassare di molto questa cifra. però questo è un po' un grosso problema, no? Anche perché la seconda domanda è ma chi è che è disposto, oggi come oggi, a, in ultima analisi, rinunciare a parte della propria libertà per il benessere del tutto, per il benessere della totalità? Abbiamo visto che molte persone di fronte a delle richieste in tal senso storcono a dir poco il naso e anzi si rinfocola ancora di più quel sentimento di voler essere invece una scheggia impazzita e di poter fare invece e consumare e godere indefinitivamente. Quindi anche qui dobbiamo chiederci quali sono le strutture filosofiche, le strutture etiche che possano un po' fare la quadratura del cerchio, in qualche modo. E quindi quello che voglio dire, non voglio buttarla lì un po' così, poi insomma chi vuol capire capirà, bisogna anche cercare un po' di passare attraverso del Scilla e Cariddi, no? Perché ci sono delle spinte centrifughe in tal senso, cioè di inimicizia nei confronti della totalità, sia a destra come a sinistra. Quindi anche qua è molto complesso, è molto difficile riuscire a trovare una via di fuga che passi esattamente in mezzo senza cadere né da una parte né dall'altra. E terza cosa, qui bisogna anche chiedersi, davvero anche se noi ci trovassimo nella condizione di dire dobbiamo fare qualcosa, possiamo semplicemente appellarci a un'eventuale scoperta tecnologica o un'eventuale scoperta scientifica, qui è un po' lo scontro tra chi vede la totalità umana, la società umana, le civilizzazioni umane come una sorta di oggetto senza soggetto che quindi proseguono con delle logiche loro proprie, verso chi invece dice, no, guardate che comunque anche se ci fossero delle condizioni oggettive che ci possano portare in una determinata situazione, comunque rimane il fatto che bisogna anche volerle le cose. Cioè ci deve essere, non possiamo affidarci a un pilota automatico, ci deve essere per forza qualcuno che in ultima analisi è una maggioranza e quindi torniamo anche per potentemente nel campo della democrazia assoluta che vuole determinate cose. E non so se fin qua... Sì, sembra che sei abbastanza poco convinto che le persone possano fermarsi prima del tracollo, diciamo. Diciamo che secondo me non ci sono le condizioni di pensiero per poter affrontare in maniera razionale, in maniera logica, le sfide che ci aspetteranno nel prossimo futuro, il che significa domani. Cioè, come dici tu, non abbiamo tempo, non c'è un gap temporale in cui possiamo cullarci più di tanto. Però no, le persone secondo me non hanno in generale un armamentale, un arsenale di concetti filosofici che mi facciano ben sperare, insomma. Perché, ripeto, ci sono quelle spinte nel confronti delle proprie responsabilità che secondo me sono molto diffuse e anche se chiaramente sono declinate in modo diverso. Sì, tra l'altro noi, lo dico, abbiamo deciso abbastanza di lasciare a parte la questione etica e sensibilità nei riguardi degli animali, che è un po' soggettiva, anche se, insomma, è anche difficile negare che sia un problema anche quello, specialmente in certi tipi di allevamento. E anche lì, io devo dirti, ho l'impressione che ci siano delle persone che lo fanno quasi più a sfregio, il consumo anche eccessivo, no? Perché davanti alla scaloppina si commuovono, davanti a un vitello macellato, no? Io sono una persona realista, credo che abbiamo bisogno, no? Di mangiare un po' di tutto. Ci sono anche delle linee guida molto chiare, tra l'altro, sulle proteine, eccetera. Se poi uno riesce, sta bene, seguendo una dieta vegana, ancora meglio. Ci sono popolazioni, eh, che sono praticamente vegane o vegetariane. Però non possiamo neanche del tutto mettere da parte il fatto che stiamo infliggendo sofferenza ad altri esseri viventi senza neanche dargli il rispetto di un essere vivente. Forse una sensibilizzazione sugli adulti è difficile, ma sui bambini andrebbe fatta. Perché aiuterebbe poi anche ad arrivare a delle leggi, a dei compromessi per consumare meno e stare tutti meglio comunque. Non so se mi sono spiegato cosa intendo dire, però se noi cresciamo delle persone che sono completamente desensibilizzate e quando vanno al McDonald's non pensano che stanno mangiando un animale, ma per loro quel panino è l'equivalente di niente, non vale niente perché tra l'altro costa un euro, due euro, diventa un problema. Fagli capire che poi c'è un rischio per la salute, c'è una problematica legata alla produzione, eccetera, eccetera. Bisognerebbe iniziare a partire da questi ragazzi più giovani a far capire che il problema esiste. Perché su un quarantenne io non è che ho tanta speranza. Insomma, però dipende anche da... Cioè, in teoria, proprio perché un quarantenne dovrebbe avere una certa maturità messo di fronte a delle oggettività, dei dati di fatto verso i quali non può sfuggire e dovrebbe anche fare appello al fatto anche di essere adulto, quindi di dover per forza necessariamente anche accettare determinate responsabilità. Poi, effettivamente, se mi guardo intorno, mi rendo conto che questo è un po' un'illusione, ma insomma... Teoricamente sarebbe così. L'impressione... Teoricamente, sì. Sì, l'impressione è che in realtà le persone, specialmente quelle nell'età adulta, cioè in quella via di mezzo, diciamo, tra i 20 e i 50, facciamo, 60, non è più capace a fare i sacrifici, non ha voglia. Dei sacrifici magari che non gli diano un ritorno diretto, soprattutto. No, assolutamente, questo sì. Probabilmente questo dipende anche dall'onda lunga del 68, per certi aspetti. Però è vero, è vero, è vero. Diciamo che molte persone hanno spostato tutto questo aspetto di responsabilità verso degli oggetti per loro comodi, che in realtà sono, diciamo, dei paravento, no? Perché in realtà a loro non costa niente rispettare determinate cose proprio perché così possono sentirsi la coscienza a posto per il fatto di non fare altri atti di responsabilità che invece gli costerebbero qualcosa, molto di più. Poi, tra l'altro, andiamo in chiusura, negli ultimi anni è esploso un culto per il cibo che ha qualcosa, non dico di morboso, ma veramente di incredibile. Trasmissioni dove si cucina, video dove si cucina, in quantità industriale, e specialmente in questi ultimi anni c'è stato questo boom delle bistecche da 18 chili, di brontosauro, no? Roba incredibile, in cui addirittura il culto ancora, non solo per il cibo, ma per il consumo di carne, viene esaltato a dei livelli incredibili, no? C'è anche proprio quindi un lavoro nell'immaginaria delle persone che va in quella direzione. Tra l'altro, va detto una cosa, che effettivamente arrivare a casa e fare la bistecchina è molto più veloce che cucinare un piatto di verdure, che fare una pasta ai fagioli che richiede tempo. La carne semplifica la vita, no? Il problema è... Scusami, però, un panino con la marmellata e burro d'arachidi è ancora più veloce, eh? Sì, sì, ma questo vale anche per la ristorazione, perché se io faccio, ti vendo dei filetti di manzo, ci guadagno molto di più, in dieci minuti il mio filetto è lavorato, pronto, tagliato e ti arriva a tavola. Se devo fare una preparazione vegano, o comunque vegetariana, è molto probabile che mi richieda molto più lavoro. Questo è proprio un controsenso di questa società, capisci? Che è una cosa che dovrebbe valere di più, vale di meno. Io, tu hai presente la metro, che cos'è, no? Sono questa catena che vende, diciamo, all'ingrosso, ma ti capita regolarmente di trovare il farro biologico a un prezzo al chilo più alto della fesa di tacchino o di maiale. Chi ti dovrebbe far capire che forse quel maiale e quel tacchino non sono stati proprio allevati nella bambagia e dovrebbe porti delle domande, no? Quindi, secondo me, è proprio questa questione della carne e secondo me hai fatto bene ad allargare il tema. è proprio uno specchio della società moderna occidentale, non solo occidentale, perché comunque noi la cui la stiamo parlando della carne, però in Asia c'è un consumo di pesce in Oriente, incredibile, no? Il Giappone abbatte i delfini, uccide i delfini, non perché abbia la cultura di mangiare i delfini, ma perché i delfini consumano pesce, quindi si tolgono la concorrenza. i cinesi stanno facendo delle cose allucinanti intorno alle Galapagos con una marea di pescherecci che pesca qualunque cosa e con l'abitudine con questa, loro sai che fanno questa zuppa di pinne di pesce e cane, pescano il pesce e cane, gli tagliano la pinna, lo ributtano in acqua, vivo, tra l'altro non è che muore dissanguato, muore soffocato perché senza poter notare normalmente lo squalo muore soffocato e stanno uccidendo milioni di squali tutti gli anni, quindi non è solo un problema della cane in occidente, è proprio un problema di tutti i posti dove c'è un po' di ricchezza in cui le proteine animali sono diventate, hanno perso il loro valore, diciamo. No, ma in più tra tutto c'è questo scontro secondo me tra diritto individuale e diritto comunitario tradizionalista e invece un dovere a questo punto mi verrebbe da dire comunitario logico e razionale, no? cioè il problema è proprio qui cioè bisogna superare sia questo questa volontà di essere liberi da qualsiasi legame, da qualsiasi legaccio comunitario però allo stesso tempo anche superare questi legacci comunitari ormai premoderni. Il problema è come farlo, il problema è come farlo, no? E qui il grosso il grosso punto interrogativo. Il grosso rischio è che si farà quando sarà troppo tardi. Sì, ma credo che non cioè ripeto io sono abbastanza scettico nei confronti della possibilità di cambiare qualcosa perché necessariamente bisogna farlo. Cioè se la gente cioè se una maggioranza non vuole è difficile che questo possa accadere. Cioè questo è un po' come la questione del comunismo del novecento, no? Per quanti decenni i comunisti si sono un po' crogiolati nell'idea che il capitalismo sarebbe crollato per delle logiche sue interne perché effettivamente il capitalismo è sempre a rischio da questo punto di vista. Il problema però è che il capitalismo ha anche dei soggetti che a tutti i costi vogliono portare avanti il capitalismo stesso. Quindi anche qui finché ci sarà della gente che vuole a tutti i costi portare a termine questa devastazione ambientale e dell'essere umano in ultima analisi perché poi alla fine ci siamo dentro tutti sarà difficile arrivare Sì sì non è perché neanche la fame è più forte di certe convinzioni e lo stiamo vedendo in questi giorni quindi è inutile. Esatto, esatto. Beh, senti io direi che abbiamo detto tutto Sì, abbiamo lasciato anche una bella un bel colpo di coda ottimista Beh, ma noi siamo sempre il podcast dell'ottimismo Sì, sì, sì ci ringraziano sempre per l'ottimismo e quella ventata di gioia specialmente dopo il video di Crosa Sì, esatto, esatto. Quindi va bene così. Sì, di fronte alla bravura di attore drammatico di Crosa ci vuole un po' di leggerezza Ok, grazie Ale Grazie a tutti e grazie a te Alla prossima Grazie a tutti